record di vaccini nelle marche 19 mila in un giorno imbrattamenti e vandalismi al cimitero centrale di pesaro bancarotta fraudolenta una famiglia responsabile di quattro fallimenti salta il carnevale di fano rinviato a marzo il concerto dei maneschi buona serata a tutto il pubblico di rossini tv e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale di oggi mercoledì 12 gennaio in questa edizione apriamo parlando di sanità perché ieri la regione marche ha segnato il record di vaccinazioni e da oggi si sveltiscono anche le procedure delle diagnosi da covid 19 grazie alla validazione dei tamponi rapidi il tutto in questo primo servizio meno code e più efficienza procede suffragata da buoni numeri la promessa fatta sotto capodanno dall'assessore regionale alla sanità filippo salta martini di potenziare la macchina delle vaccinazioni regionali in un mese di gennaio ad altissime somministrazioni detto fatto l'undici gennaio appena trascorso ha contrassegnato il giorno con più vaccini inoculati nelle marche 19 mila e 12 mai così tanti in 24 ore con le terze dosi che avanzano oltre le 15 mila unità giornaliere e il dato non indifferente di 1700 prime dosi somministrate ieri si sveltisce la procedura dei vaccini quanto quella della diagnosi della positività al covid 19 da oggi nelle marche infatti possibile diagnosticare la positività e uscire dall'isolamento e dalla quarantena anche con il tampone antigenico rapido negativo senza bisogno di conferma con il molecolare merito delle nuove disposizioni del dipartimento salute recepite dalla regione dunque per avere la conferma di positività al covid è ora validato anche il semplice test rapido effettuato in farmacia dal medico di medicina generale dal pediatra o in strutture sanitarie accreditate allo stesso modo uscire dall'isolamento con un test antigenico che accrediti la guarigione dal covid dovrebbe snellire la procedura dei punti drive tamponi costantemente congestionati di auto in fila tamponi rapidi ora validi anche per la fine quarantena dopo un contatto diretto con positivo meno file disagi più rapidità ma pagamento i tamponi rapidi costano 15 euro mentre un tampone molecolare effettuato privatamente viene pagato 70 euro regione che esulta per lo snellimento delle procedure regione che viene però ammonita dal sindaco di pesaro matteo ricci pesaro ha infatti attualmente l'8 per cento dei casi positivi regionali ma l'ospedale si fa carico del 43 per cento dei vigenti covid 19 della regione per ricci sono numeri troppo sbilanciati che mettono sotto stress tutte le altre attività mediche della struttura il sindaco fa sapere che venerdì solleverà questi temi durante la conferenza dei sindaci dell'area vasta auspicando presto una presenza del presidente della regione acquaroli ad un prossimo consiglio comunale monotematico sulla sanità e restano però alti contagi nella nostra regione marche oggi 2393 casi di cui 276 in provincia di pesaro urbino con un'incidenza da contagio che sale a 890 casi settimanali ogni 100.000 abitanti aumentano di ben 16 unità i ricoveri rispetto a ieri con 320 pazienti totali nelle marche di cui 58 in terapia intensiva oggi ci sono stati altri quattro decessi un uomo di 49 anni di loreto uno di 72 anni di pesaro uno di 92 di senigallia e una donna di 88 anni di ascoli piceno ed ora cambiamo completamente argomento perché questa mattina le nostre telecamere si sono accese al cimitero centrale di pesaro dove nell'ultima settimana si sono ripetuti episodi di imbrattamenti di muri e vandalismi all'interno del campo santo scritte già in gran parte ripulite ma che non cancellano la gravità del gesto davvero un brutto inizio di 2022 per il cimitero centrale san decenzio che dal 5 gennaio in poi ha visto riscontrare alcuni episodi di vandalismo all'interno appunto del campo santo centrale di pesaro episodi di imbrattamento di muri imbrattamenti che sono persino sconfinati sulle lapidi episodi davvero deprecabili ancor più per la sacralità del luogo in cui ci troviamo oggi non solo anche danneggiamenti a neon a impianti elettrici questo è quello che hanno trovato e in buona parte già ripulito e riparato i custodi del cimitero e gli addetti del servizio cimiteriale di aspes qui abbiamo al cimitero centrale ritrovato una serie di imbrattamenti fatti con della tempera probabilmente e all'inizio li avevamo riscontrati su all'interno degli ascensori e su alcune lapidi del cimitero e dopo un controllo l'abbiamo trovato in altre ulteriori zone del cimitero sempre imbrattamenti fatti con con la tempera successivamente l'8 gennaio sono ritornati il pomeriggio probabilmente hanno fatto ulteriori danni lei stesso ha fatto la denuncia ai carabinieri sì sono stato fatto la denuncia ai carabinieri su richiesta del responsabile del servizio e al fine di riuscire magari a identificare chi ha fatto questi danni perché sono le tempere siamo riusciti a rimuoverle però sono stati fatti anche dei danni proprio al circuito elettrico e al sistema di aereazione dei loculi sotterranei ci sono anche supposizioni ragazzini minorenni anche quasi bambini sì avevamo visto nella giornata di mercoledì 5 dei ragazzini in bicicletta che si aggiravano qui però poi sono sfuggiti non le abbiamo non li abbiamo più rintracciati sono naturalmente episodi deplorevoli il vandalismo è di per sé è disprezzabile ma in questo contesto è davvero senza senso assolutamente specie il disprezzo con cui hanno imbrattato le lapidi dei defunti che è una cosa che in anni di lavoro non ho mai visto all'interno del cimitero ed è inaccettabile vandalismi non solo al cimitero di pesaro ma anche in altre zone della città è il caso del centro civico di vismara dove come documentato da queste immagini pubblicate sulla pagina facebook del quartiere 5 alcuni ragazzi sono penetrati nella notte mettendo a soquadro il salone distruggendo una porta e rovesciando gran parte dell'arredamento al termine di un altro episodio di inciviltà e chiaramente per tutte le vostre segnalazioni vi ricordiamo il nostro numero di redazione 370 366 72 10 mandateci e segnalate le cose che non vanno e noi chiaramente daremo notizia nei nostri canali di informazione da quartiere di vismara adesso passiamo a quello di pantano dove questa mattina c'è stato qualche disagio di traffico veicolare per l'inizio dei lavori dei sottoservizi di marche multiservizi che dureranno circa un mese interessando via fratti via giolitti via trometta e via bel gioioso chi proviene da via giolitti infatti può svoltare solo a destra in via trometta chi proviene da via bel gioioso non può svoltare su via fratti chi proviene da via trometta non potrebbe imboccare la rotatoria con via bel gioioso ma in questo caso come vedete diverse auto sono finite in un vicolo cieco ignorando la transenna che consente il passaggio solo a chi deve entrare nella locale carrozzeria ed ora ci spostiamo a urbino dove la guardia di finanza ha denunciato tre persone riconducibili allo stesso nucleo familiare responsabili di bancarotta fraudolenta di quattro società dall'autorità giudiziaria di urbino arrivano tre denunce per bancarotta fraudolenta riconducibili ad un unico gruppo familiare responsabile del fallimento di quattro società coinvolte nella fabbricazione di apparecchiature elettriche sono questi i provvedimenti risultati dalle complesse indagini svolte sotto la direzione della procura della repubblica di urbino dal nucleo di polizia economico finanziaria della guardia finanza di pesaro dalla compagnia di urbino e dalla sezione di polizia giudiziaria in procura ad essere denunciati tre amministratori di diritto legati da legami di parentela che sono emersi dalle molteplici attività di indagine eseguite anche attraverso un arrogatore internazionale con la repubblica di san marino indagini che hanno consentito di far emergere gravi e ripetute ipotesi di bancarotta fraudolenta realizzate sia occultando sistematicamente le scritture contabili al fine di ostacolare la ricostruzione degli accadimenti societari prefallimentari sia tramite la distrazione di grandi risorse finanziarie stimabili in due milioni e mezzo di euro sul tavolo della procura di urbino sono finite diverse ipotesi di falso in bilancio delle società con cui gli amministratori camuffavano la reale situazione economico patrimoniale delle imprese portando al dissesto le quattro società poi dichiarate fallite tra il 2015 e il 2019 all'esito delle indagini delle fiamme gialle la procura di urbino ha formulato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dei tre soggetti denunciati il baia flaminia hotel di pesaro ha ospitato oggi l'assemblea regionale della cgl marche alla presenza del segretario generale del sindacato maurizio landini al centro del dibattito le manovre di contrasto alla precarietà lo sviluppo del lavoro giovanile e delle pari opportunità la notizia era nell'aria e da oggi è ufficiale nel mese di febbraio non si terrà l'edizione 2022 del carnevale di fano lo comunica malincuore lente carnevalesca che in accordo con il comune ha deciso di rinviare la manifestazione alla sua versione estiva il luglio a causa del perdurare dell'incertezza sanitaria in termini di contagio una decisione che è stata presa di comune accordo con altre manifestazioni carnevalesche italiane viene invece posticipato di quasi due mesi l'atteso concerto dei maneskin a pesaro per le stesse precauzioni in termini sanitari i vincitori dell'eurovision song contest si esibiranno la vitrifrigo arena non più il 27 gennaio ma venerdì 18 marzo i biglietti del concerto già acquistati restano validi per la nuova data e arriva a un punto di svolta la corsa di pesaro a capitale della cultura 2024 il 18 gennaio dalle attuali 23 città candidate si decideranno le dieci finaliste siamo in dirittura d'arrivo con una fase decisiva della percorso a capitale italiana della cultura 2024 stiamo poi incrociando le dita in attesa di quelle che saranno notizie dal ministero della cultura perché il 18 di gennaio verrà resa nota la shortlist ovvero delle 23 città e attualmente rimaste le 23 proposte da capitale italiana della cultura 2024 si verranno portate a 10 saranno le 10 che poi si giocheranno un po la finalissima in due mesi di lavoro ulteriore di comunicazione di racconto dei propri progetti delle strategie in caso di vittoria 2024 sappiamo che una sfida durissima perché sono tanti le città guerrite ma anche con tantissime cose da dire da città capoluogo come noi come ascoli come vicenza come siracusa a realtà di aggregazioni di comuni o luoghi paesaggistici fantastici in tutta italia insomma siamo consapevoli che una partita non scontata se ce la faremo ovviamente proseguirà la corsa fino al sogno di potersela fare nel mese nel mese di marzo se insomma non se l'avremo fatta sicuramente tutto il lavoro di programmazione e di coinvolgimento soprattutto di tutti i comuni della provincia in un programma 2024 come già comunicato anche assieme a ascoli assieme alla regione marche avrà comunque un suo svolgimento diventerà anzi una traccia una rincorsa lunga per la capitale 2033 però siamo sempre ancora ottimisti fiduciosi quindi aspettiamo questo 18 gennaio un po come spartiacque necessario con il dovuto ottimismo e altre buone notizie per pesaro perché pesaro candidata capitale della cultura due mesi fa ha anche valorizzato la tradizione del pesce del nostro mare attraverso la prima edizione di mare magnum evento che avete potuto vedere anche in uno speciale realizzato da rossini tv e che oggi è stato premiato con 19.250 euro da un bando della regione marche che l'ha classificata al 18esimo posto tra le 40 migliori manifestazioni delle marche dedicate all'agroalimentare finanziate nel 2021 dopo l'anteprima tenutasi durante le festività natalizie la sonosfera di pesaro presenterà questo weekend il programma ufficiale di raffaello in sonosfera un'opera di innovazione linguistica digitale studiata per raccontare il pittore attraverso il suono tridimensionale la visione a 360 gradi grazie infatti alla sua tecnologia la sonosfera permetterà di entrare in un percorso sensoriale all'interno della bellezza di uno dei capolavori più significativi di raffaello sanzio il ciclo di affreschi della stanza dell'assegnatura dei musei vaticani raffaello in sonosfera sarà aperto al pubblico a partire da sabato 15 gennaio nelle giornate di sabato domenica e festivi negli orari delle 11 30 e delle 17 da oggi rossini tv vi porta alla conoscenza di alcune donne di genio figure imprenditoriali distintesi per creatività che hanno partecipato all'omonimo concorso promosso da terziario donna di conf commercio tenutosi lo scorso novembre cominciamo a conoscere allora proprio la vincitrice dell'edizione 2021 lei si chiama monica martinelli ed è la creatrice la fondatrice della casa editrice 7 9 di cagli nel 2013 monica martinelli fonda cagli la casa editrice 7 9 una casa editrice che si schiera a favore della costruzione di un immaginario privo di stereotipi sessisti che pubblica costantemente libri utili ad affrontare la prevenzione della violenza di genere allora monica da cagli in questo piccolo paese come ti è venuta questa idea nel lontano diciamo così lontano 2013 e cagli è un piccolo paese ed è un in generale un piccolo territorio ma prima di fondare la casa editrice a cagli ho girato un po per cui ci sono state esperienze esperienze in spagna contatti con persone in europa e in italia un'esperienza di una casa editrice più strutturata a bologna e poi insomma sono approdata a cagli con con 7 9 ecco quindi avevi già un ben un progetto ben preciso quindi una casa editrice specializzata in questo genere di libri sì un progetto preciso che è nato nel 2013 e si è implementato nel corso del tempo ma il format è rimasto lo stesso quindi libri che si occupino del tema della discriminazione violenza di genere attraverso tutti i linguaggi narrativi per cui dall'alba illustrato la narrativa la saggistica ai libri di formazione per insegnanti operatori per l'attrici del centro antiviolenza quindi un progetto nato con una struttura ben precisa che si è soltanto implementato nel tempo ma il format era ben chiaro fin dall'inizio ecco l'anno è appena iniziato quali sono i libri i prossimi libri che avete intenzione di produrre allora ci sono a ci sono quest'anno 10 12 libri in produzione già da qui alla fine del 2022 e il primo libro che uscirà sarà un libro sul consenso per adolescenti ed è un tema molto importante molto molto importante proprio proprio oggi quando si parla di violenza di discriminazione ma è necessario anche discutere di cosa sia il consenso che il consenso non è soltanto un sì in qualsiasi azione della nostra vita umana non è un sì ma deve essere un consenso entusiasta informato e consapevole e quindi sì insomma il primo libro sarà questo e poi ce ne saranno molti altri sia albi illustrati che narrativa. I libri si trovano in tutte le librerie italiane perché la nostra distribuzione nazionale qui nelle librerie fisiche nelle librerie online da attraverso il nostro sito internet e poi se volete seguirci insomma attraverso i nostri social ci troverete ormai anche in qualche in qualche fiera insomma tutto sta riprendendo per cui riprendono le fiere riprendono gli eventi in presenza ci troverete anche nei principali eventi dedicati al libro in italia. E allora complimenti davvero a questa imprenditrice e a questa casa editrice che c'è nella nostra provincia di Pesaro Urbino siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale ma attenzione perché questa sera vi facciamo rivedere le puntate che abbiamo realizzato lo scorso anno di qua la zampa in attesa di registrarne di nuove vi consiglio alle 21 e 20 di vedere questa prima puntata che chiaramente parla di animali dei nostri amici animali vi da tanti consigli e vi racconta anche i canili gattili del nostro territorio e tanto altro e poi vi ricordiamo che domani torna insieme a canestro così come tutti i giovedì alle 21 e 20 in diretta domani avremo con noi Enzo Belloni in questo caso in veste di allenatore della VL Under 14 e German Scarone che è ex giocatore della VL non perdetevi questa puntata vi ricordo che potete anche partecipare commentando al numero di whatsapp oppure nella nostra diretta facebook grazie ai vostri messaggi avrete la possibilità di vincere dei premi messi in palio dalla Carpegna Prosciutto e poi venerdì questa settimana appunto riparte anche il Valle Foglie Pian del Bruscolo magazine il telegiornale di questo grandissimo territorio il settimanale che troverete tutti i venerdì alle ore 20 ho detto davvero tutto grazie per essere stati con noi vi consiglio di rimanere sul canale 633 e seguire la programmazione di Rossini TV l'informazione torna domani alle 7.20 in diretta con la nostra Rassegna Stampa